Sarà possibile da domani, mercoledì 25 novembre fino al prossimo 2 dicembre, presentare le domande utili per richiedere i saturimetri che l'amministrazione comunale distribuirà ai pesaresi a partire dal mese di dicembre. Una misura ricavata dai fondi avanzati dal milione di euro impiegato per i bonus pesa, bambini e attività. I 3.000 saturimetri saranno destinati agli over 65. Alle famiglie al cui interno vi è almeno un componente nato prima del 1 gennaio 1956, oppure a casi di disabilità grave. Se le domande dovessero risultare in esubero, sarà data priorità agli over 65 che vivono soli, a chi paga l'affitto, oppure a chi presenta un reddito più basso al netto del mese di ottobre 2020 rapportato al nucleo familiare. Le domande potranno essere compilate sul sito del comune di Pesaro, oppure chiamando il numero 0721 17 43 66 2. La linea telefonica sarà attivata a partire da mercoledì 25 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15 alle 16 e 30. I saturimetri saranno distribuiti dal 5 dicembre dai volontari di quartiere, che verranno formati da Aspes grazie ai professionisti delle farmacie comunali. Il saturimetro è uno strumento piccolo che viene utilizzato proprio per vedere e verificare la saturazione dell'ossigeno all'interno del nostro organismo. È composto di uno schermo, di un piccolo schermo, dove vengono riportate sia l'ossigenazione del corpo e sia i battiti cardiaci. Quindi sono praticamente le due cose che vanno sempre di pari passo. Dopodiché si inserisce all'interno del piccolo strumento un dito e si aspetta praticamente qualche secondo e dopo qualche secondo abbiamo la risposta alla nostra richiesta praticamente. E questo sul visore si vede praticamente benissimo come si deve comportare. Diciamo che l'ossigenazione per essere perfetta deve essere dai 93 ai 99. Noi siamo parte integrante di questo progetto che ha voluto fortemente il sindaco Ricci dare la possibilità a 3.000 famiglie pesaresi di poter utilizzare questo strumento che in questo momento di epidemia legata al covid è fondamentale proprio all'interno delle famiglie. I virologi dicono dove c'è un termometro ci dovrebbe essere un saturimetro e la volontà del comune di Pesaro è proprio quella di poter dare la possibilità anche a quelli che hanno problemi economici, meno possibilità di approcciarsi a uno strumento di questo genere e di poterlo fornire. Dalla prima settimana di dicembre noi come Aspense forniremo al comune questi 3.000 saturimetri che misurano l'ossigenazione del sangue e anche il battito cardiaco quindi daranno la possibilità di conoscere il livello di ossigenazione che è quello che bisogna tenere sotto controllo per capire se ci sono o meno problemi proprio legati all'infezione da covid. Come Aspes organizzeremo anche per tutti i volontari che distribuiranno questi saturimetri nei quartieri della città un corso di formazione proprio per spiegare come funziona il saturimetro, quale sono l'approccio ai valori e alle misurazioni che il saturimetro farà e lo faremo proprio coinvolgendo tutti i quartieri i volontari che già sono stati utilizzati per conto del comune proprio per la distribuzione in questi giorni e nei mesi precedenti dei buoni prima spesa e poi dei buoni bambino.